a bel attimo ragazzi ben ritornati su un video su youtube oggi ragazzi cercherò di parlarvi di squadre visto che mi chiedete tantissimo quale squadra fare quanto spendere eccetera eccetera oggi vi consiglio una serie a che tra l'altro è molto economica cioè attualmente siamo a gennaio quindi una squadra da 300 mila crediti solamente per la difesa con dei giocatori che su me sono straordinari e possono performare benissimo fine toz questo il parere mio personale vi ripeto io li ho testati vi farò vedere in game come si comportano e andiamo a vedere assieme in game alcune clip per dimostrarvi che questi qui sono veramente clamorosi come giocatori però prima vi ricordo di lasciare like di commentare qui sotto per sapere anche la vostra per sapere cosa ne pensate di seguirmi su tik tok su twitch su tutte le piattaforme social trovate tutto in descrizione vediamo assieme comunque le clip e vediamo insieme la squadra che sto utilizzando attualmente perché molti crediti ce li ho investiti uso un 4-1-2-2 in game con barella mediano per l'intesa metto spin a sole difensore centrale ma poi lo metto a destra e darmi anti a te che sono i due mostri che vi farò vedere quest'oggi allora partiamo subito con un gol di leao che è un buon giocatore buon finalizzatore mi piace tantissimo non è non eccelle ma comunque un buon finalizzatore e andiamo a vedere proprio di quello di cui parlavo i due difensori centrali che per me sono mostruosi si completano benissimo assieme vediamo qui tiate subito un intervento top guardate come si comportano bene assieme sono complementari perché c'è darmian che è fortissimo dal punto di vista della velocità guardate qui clamoroso con bappi lo distrugge clamoroso veramente mentre tiate quello lì più grosso fisicamente che comunque da forza fisica ricordate la cosa nelle squadre cercate di mettere due giocatori complementari tra di loro non mettete mai due giocatori uguali cioè almeno io non mi sono mai trovato bene con due giocatori uguali quindi cercate di capire un'intesa di fare un'intesa dove uno è forte fisicamente uno è nella velocità eccetera eccetera anche se sinceramente entrambi sono veramente che non hanno pecche mi ripeto forse un pochettino come ho detto su tiktok darmian pecca un pochettino dal punto di vista degli autoblock ma del resto è veramente un giocatore clamoroso spinazzola è uno dei terzini più forti del gioco guardate qui darmian cioè qui praticamente lo distrugge l'attaccante è imbarazzante la reattività che ha la velocità che ha io vi giuro questa qui è una coppia di difesa costa 200.000 ma la potete tenere tranquillamente fino ai toti guardate qui tiate che intervento con la gamba cioè questi interventi manco martinios mi li faceva ragazzi martinios per me è un ottimo giocatore ma quel prezzo che non vale mai la pena spendere tutti quei soldi per difensore mi prende questi due ragazzi sono complementari tra di loro cioè sono spettacolari tra l'altro puoi mettere anche tantissimi giocatori ibridabili molto forte come barella come come spinazzola come teo e arnandez è veramente clamorosa come squadra vi ripeto questo qui è un test che faccio sulle division rivals in elite division il nostro avversario qui come vedrete ha mille quasi 1900 punti quindi non è scarso è finita 1 a 0 con questa difesa fatemi sapere voi cosa ne pensate vi ricordo sempre di iscrivervi sul canale e lasciare like al prossimo video